Un ingente sequestro di droga, di hashish in questo caso, stupisce un po' la quantità e anche il valore di questa droga una volta messa sul mercato? Sicuramente un quantitativo molto elevato, 90 kg netti più o meno di hashish, un valore di mercato molto alto perché le singole dose di hashish sul mercato, specie fra i giovani vanno intorno a 8-10 euro a dose, quindi è facile fare due conti e capire il valore e capire anche la quantità di droga che sarebbe stata immessa sul mercato pratese e in parte anche sul mercato di Pistoia. La cosa particolare sembra emergere che uno dei due corrieri lo faceva quasi per disperazione, almeno questo è quello che vi ha detto? Sì, certo è quello che vi ha detto, una persona, un marocchino regolare sul territorio nazionale aveva perso il lavoro e quindi si era prestato a fare questo viaggio in cambio di una somma di 1.000 euro. Una persona con famiglia, vero? Sì, moglie e tre figli. A questo punto le indagini andranno avanti per capire quali erano collegamenti perché naturalmente non sarebbero stati loro a spacciare direttamente l'hashish? No, certo, le indagini a questo punto saranno finalizzate sia a capire chi erano i destinatari rivenditori sul territorio dello stupefacente, sia le persone da cui loro si sono approvvigionati di questo quantitativo molto elevato.